andiamo quindi per concludere l'esercizio ad applicare il materiale il materiale sarà lo stesso che abbiamo salvato che abbiamo utilizzato anche per le nuvole o per la polvere del deserto naturalmente avrà una diversità la diversità sarà data dalla colorazione del suo gradient quindi una volta applicato se lanciamo il render vedremo tale effetto se notiamo che le particles sono troppo troppo piccole quindi l'effetto non è quello desiderato possiamo andare a ingrandire le dimensioni delle particles stesse aumentare il grove per evitare di avere gli effetti mettiamolo al 18 facciamo un render ecco fatto in questo caso notiamo che è già più vicino a il nostro risultato che volevamo ottenere per il rendering si può applicare tranquillamente un sistema molto basilare che è quello quindi di utilizzare tranquillamente uno spot target spot target spot sarlo no per ottenere delle luci l'effetto di illuminazione da indietro e assegnare dei parametri 0,5 1 può andar bene se non abbiamo la camera se volendo possiamo anche applicare uno sfondo l'azzurrino facciamo il primo render eccolo qua naturalmente conviene renderizzare separatamente sia la ciminiera con un matte object e il nostro fumo per poi andare a regolare in post produzione la sua opacità questo perché? perché se andiamo a regolare la sua opacità tramite l'opacity quindi il nostro opacity possiamo dare per esempio 50 quando vado a renderizzare noterò l'effetto di fatti del facing delle mie particles invece possiamo dare 100% potremo anche provare a lavorare tramite l'opacità della mappa stessa quindi andare per esempio a aumentare il bianco andare ad alzare i grigi il problema qual è? è che non otterremo quasi mai comunque l'effetto desiderato questi effetti si ottengono molto più velocemente in post produzione non dimenticate di applicare anche il motion blur poiché essendo un fumo anche se è molto lento avrà sicuramente un minimo di motion blur ricordiamoci sempre di attivarlo nel nostro renderizzatore in questo caso dal scanline render così facciamo